Ciao a tutti, sono Chiro di Melamorsicata.it e vi do il benvenuto in questo canale video su YouTube si chiama Mela Channel, all'interno vi parlerò del più e del meno, sono sempre sul mondo Apple ho pensato a questo canale perché ci sono alcune cose che è meglio esprimere a voce anziché scriverle il testo è sempre uno strumento molto importante perché rimane nel tempo, può essere modificato, ampliato e così via quindi il lavoro del blog continuerà però ho pensato a questo canale per permettere di farvi vedere, esprimere situazioni magari commentare delle novità sul mondo Apple quindi se volete qui troverete una serie di video che farò nei prossimi mesi per informarvi un po' sull'andamento del mondo Apple per esempio ho fatto in mente di fare un video sulle mie impressioni sull'iPad che usciranno come saprete che uscirà il 28 di maggio quindi quando mi arriverà magari vi do le mie impressioni qui in una video recensione o cose del genere se volete non sono molto esperto di YouTube ma se volete se non sbaglio c'è una possibilità di iscriversi di lasciare commenti, feedback, potete embeddare questi video dove volete e sono qui quindi fate domande, cose del genere, interagiamo insieme, ok? alla prossima